Buongiorno a tutti, qua siamo all'arrivo della sciovia Pian della Morra che è un impianto costruito dalla ditta Graffer nel 1980 ed è dismessa dal 98 per carenza della neve ed è il quarto impianto della statioscistica di Ornea e questo impianto ha una portata oraria di 720 persone e qui rimane la statioscistica di Ornea infatti qua c'è il contrappeso e la puleggia del contrappeso e la puleggia del rinvio mentre la stazione motrice è a valle i sostegni sono 8 mentre di qua sulla destra ci si sganciava e si raggiungeva l'arrivo della sciovia Dario e le piste sono ancora visibili perché la vegetazione non è ancora diventata padrona del posto dato che è dismesso da circa 20 anni qua la pista qua la zona di sgancio e qua è l'arrivo dell'impianto eccoci qua alla partenza della sciovia Pian della Morra che filmo la partenza per ultima perché non sapevo se fosse raggiungibile invece lo è e appunto questo impianto rimane praticamente tutta linea tranne una parte di cavo scarrucolata e nessun traino questa è la stazione motrice Rolieri Graffer e la motrice grazie a tutti 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 grazie a tutti